A che punto è l'inserimento di Danfries? Ma per quanto riguarda Danfries, il ragazzo ha lavorato bene, si è allenato e ha fatto che manchia abbastanza bene con la sua nazionale e penso che ormai sia pronto per ritagliarsi uno spazio importante nel club con tutti i ragazzi, insomma, si sta allenando bene. L'importante è questo perché è un giocatore molto importante. Simone, minuto 23 di Inter Genoa, a primo tempo l'Inter già stava sul 2-0, la curva Nord scandisce il tuo nome, tu saluti. In quel momento, dopo tanti anni di Lazio, dopo l'addio di Conte all'Inter che ha vinto lo Scudetto, ti sei sentito in quel momento veramente l'allenatore dell'Inter dopo magari qualche diffidenza che ci poteva anche stare? Ma guarda, io subito mi sono sentito bene, mi sento subito a far parte dell'Inter perché i tifosi subito mi hanno soprannominato lo Spiacer One, questa cosa è molto importante perché sicuramente può dare tanto anche in ottica del futuro, possiamo raggiungere grandi traguardi con questa fiduzia perché è molto molto importante quindi questo è sicuro ma anche a Parma mi hanno fatto vedere il loro carore dicendo Forse Inzaghi spiace pure a noi, ora sono cazzi tuoi, quel coro è stato importante per me e per tutto, diciamo anche il mio staff era molto contento di questa cosa qui, sono contento e va bene così insomma. Avete deciso di trattenere alla pinettina Satriano, visto che l'Inter ha tanti impegni adesso, lo vede come un giocatore che possa davvero entrare nelle rotazioni e che possa quindi anche giocare dal primo minuto se serve? Assolutamente sì perché Satriano ha dimostrato in tutto il precampionato di essere un giocatore molto forte, molto bravo per la sua età, ha anche una forza, una garra, una gritta, una garra cerroa differente e questa è una cosa che contraddistingue tutti gli uruguaggi, ma ormai lo sappiamo, abbiamo già Vecino, Satriano può ritagliarsi uno spazio importante. Grazie.